Buona Pasqua a tutti e bentornati sul mio canale. Sigla! Benvenuti nel mio magico canale. Nella foto di questo video avete visto l'uovo di Pasqua e un bel po' di contanti. Il titolo narrava l'uovo più caro del mondo, ma non è così ragazzi. È un semplicissimo uovo, un uovo di Pasqua, di cioccolato, ma andrò a fare una magia con questo uovo e con questi soldi. Siete pronti per questa magia pasquale? L'uovo è qui di fianco a me, sigillato, integro e in bella vista. Qui ho i soldi che per la precisione sono 600 euro e per essere ancora più precisi sono 1, 2, 3, 4, 5 pezzi da 100 e 2 pezzi da 50. Quindi 600 euro. Ora mi serve il mio portafoglio, il mio portafoglio vuoto e vado a inserire i soldi. Li metto uno a uno così almeno vi rivedete. 50 altri 50 sono 100 200 300 400 500 e 600 Ecco di qua. Di qua è vuoto e di qua ci sono i nostri soldi. Ora andrò a fare una cosa magica. è un canale di magia, andrò a spostare i soldi dentro all'uovo. Avete capito bene? Mi basterà toccare l'uovo col portafoglio e i soldi si sono già spostati. Ci sono ancora. Dicevo, mi basterà toccare l'uovo col portafoglio e i soldi si spostano. Fermi tutti. Dovevo appoggiare l'uovo sopra il portafoglio per farli entrare. Schiocco le dita. I soldi ci sono ancora. Ah ma no! È solo 100 euro. È solo 100 euro. Quindi vuol dire che 500 euro sono passati nell'uovo e 100 no. Lo scopriamo subito. Andiamo a aprire l'uovo. Aprire l'uovo è sempre un disastro. Ce la faccio. Ecco qua l'uovo il suo piedistallo e nient'altro. Quindi i soldi se ci sono si sono spostati e la magia è avvenuta sono all'interno. Grazie. Dentro l'uovo sigillato sono passati mettiamo qua il cioccolato così si vede. 50 50 sono 100 200 300 400 e 500 euro passati da un portafoglio a un uovo di Pasqua. Spero che questo video pasquale vi sia piaciuto vi auguro ancora una buona Pasqua e anche una buona Pasquetta. Non dimenticate che subito dopo lunedì quindi penso martedì o mercoledì uscirà un altro video sempre inerente alla Pasqua. Detto questo ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Buona Pasqua!